Cioè sei tu quel blocco di terra, questo qua Non mi dovresti vedere Hai buggato la mappa Allora perché ogni cosa che noi giochiamo Si rompe Steph Perché abbiamo l'abilità di rompere No sei tu Secondo me tu mi hai trasmesso il tuo influsso Tu sei diventata un blocco di terra Io non ero un blocco di terra Mi hai trasmesso tu il tuo blocco di terra Te ne sei sbarazzata dandola a me Quindi hai buggato tu la mappa, tu hai le colpe Niente responsabilità per Steph Ora ci tocca resettare tutto E ragazzi come va? Io sono Periniki E sono Steph che si giochiamo a Minecraft E oggi stiamo con una nuovissima custom mappa appena uscita Che si chiama Spot the Difference Adesso Steph ve la spiegherà perché è una cosa un po' lunga Ok avete presente quando dovete trovare tutte le differenze Nel giochino classico Quindi abbiamo una cameretta Un'altra cameretta con tipo 5 differenze Ecco è la stessa identica cosa Ma la particolarità è che avremo soltanto una differenza Che sarà Fere in questo caso O Steph O Steph quando toccherà a me Perché Fere si potrà trasformare in qualsiasi cosa di quella stanza E io dovrò accorgermi dove si è messa È una sorta di nascondino Combinato a trovare differenze Combinato un po' anche al propante Perché poi diventa un oggetto E' un sacco di cose tutte insieme In ogni caso partiamo Ok Allora aspetta ci ha mandato a scegliere la mappa Fere Io voglio fare questa Colorful Ti va bene? Ti piace? Sì vai Ok andiamo Devo trovare un posto dove nascondermi Allora Devo studiare bene Un posto difficile da capire per Fere Fere ti dico Guarda Non è così difficile secondo me scoprire le differenze Ok vabbè non lo so Sinceramente non ho idea di cosa andrò a vedere Ah quindi Ok stai attento a non vedere il mio schermo Che sto per fare il mio nascondino Ovvio che non lo guardo Steph Ma che residici Sto cercando questo Ok Però mi dovrei poter muovere Sì vedete Io mi posiziono qua Hai fatto? Allora 30 secondi per Fere Deve notare tutti i dettagli di questa mappa Capire quindi dove potrei essere E dopo questi 30 secondi Lei tornerà nella stessa mappa Col piccone Io ci sarò E dovrà accorgersi della differenza Quindi fare memorizza tutto Io cerco di distrarti 4 per 8 fa Stai zitto Tanto non ti ascolto Ok È facile quando non ti ascolto Quindi non mi puoi distrarti Sei brava a non ascoltarmi Sì non puoi Hai un talento speciale Secondo me questo è difficile Perché tipo se sei diventato una foglia Io non ti troverò mai Capito? Non so adesso cosa sei diventato Però Ok 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 Ah vediamo un po' Vediamo un po' Credo che hai un solo tentativo Quindi la prima cosa che distruggi O è quella O hai perso Giusto per metterti un po' di ansia ovviamente Io già non ti trovo ovviamente Dai forza Secondo me è facile E poi ti spiegherò perché Ma te lo spiego dopo che vinco Perché voglio vincere Non lo so Perché è molto strana sta mappa Capito? Cioè ci sono tante cose Tanti possibili posti Allora mi ricordo Qualche buco per terra Tipo questo qui dietro c'era Quello c'era Quindi non ti puoi essere infilato In queste zone Ok Sono diciamo verde Ecco qua lo sapevo Ma non sono una foglia Ok ok E vabbè Allora però c'è l'erbetta Sei un erbetta Sto per terra Sei un erbetta Oppure No io pensavo anche un fiore Ma un fiore no Perché i fiore Sono un blocco di terra Trovami Come sei un blocco di terra Sì sono un blocco di terra Come sei un blocco di terra Sì sono un blocco di terra Sei questo Eri quello No ho vinto Era un blocco di terra Che non stava per terra Ma che stava nel cumulo Di blocchi di terra Non sei meritato un bello schiaffo No non me lo meritavo Allora io me lo vado più in tutto A scegliere una nuova mappa E adesso dovrò essere io A notare le differenze Facciamo Cosa Questa Perché prima non ce l'ha messa Eh non ce l'ha messa Vai volevo provare quella Ok Sembra un bel nome Quindi io devo essere Il Spotter Ok vai 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 Metti differenze Ok Vado Sì vai vai Ok Sì insieme alla mappa giusta Perfetto Allora come mi posso trasformare Ti fa vedere in chat Tutti gli oggetti in cui ti puoi trasformare Clicchi l'oggetto in cui ti vuoi trasformare E ti trasformi Ah fammi vedere Dammi un attimo che mi devo Mi devo ambientare Sì ma prima scendi Che cosa vuoi essere E poi ti ci trasformi Ho fatto Steph Vai Ok Allora Uno Due Tre Quattro buchi Ma Cinque buchi C'è qualcosa di strano Posso vedere se io mi vedo Come mi volevo nascondere Perché vedo qualcosa di strano No Fede tu Vediamo È che sto cercando Ma tu non È come se non ci sei ancora Comparirai dopo Stai tranquilla Ah ok È strano però È così Allora Tu mi hai detto che mi devo confondere Questa forma è così E questa forma è così Più in alto non potresti stare Da questo è solo un lato E questo invece è entrambi i lati Ok Ok adesso mi vedo Perfetto Perfetto Se sei nel cumulo Ti trovo Ok Però non c'erano nascondigli giusti In questa mappa Tu hai fatto il blocco di terra Io non potevo fare il blocco colorato Steph No 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 Non mi piace Ok Vattene Vuoi fare un'altra mappa? Sì Voglio farlo di nuovo io Ok Grazie altro Guarda Fallito Allora Scegli tu proprio la mappa Dimmi tu quelle vuoi Così Non mi puoi dare le colpe Sono tante però Lo so Lo so Sono tante Sono dieci Voglio fare Ok Il villaggio Facciamo il villaggio Eh beh il villaggio Tendenzialmente È difficile Ha tanti nascondigli Esatto Non è come quella Quindi allora Mi rimetto Be the spotter Mettiti Be the difference Pronta Sì Vai divertiti Oh mamma mia C'è tanta roba? Eh pochino Pochino sì Ok Oh mamma mia Ok no Qua è difficile Eh sì Ti ho detto Ci sono tante cose Allora non è difficile Secondo me Da memorizzare Però 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 Ce la puoi fare Allora Le casette sono queste E non c'è molto da fare Qui c'è un blocco Che manca Potrebbe essere interessante Qui invece È tutto regolare Ok Qui abbiamo Tutto il legno Con questa forma Quindi scalino Qui due Lì due Con un avanti Che sta sopra Ok Dimmi che me lo ricordo Vai Steph Concentrato Steph Scalino Con uno in avanti Cosa avevi detto Allora Aspetta Controlla magari dentro le case Ho Un certo presentimento Ok Ad esempio No no Non dico nulla Secondo me Sì questo qua Ok Perché io ricordo Scalino Ma non altro scalino Ok Quindi se Mi dispiace Steph Ero quello dietro Quello dietro E perché eri in terra E non in legno O eri in legno Ero in legno Ah ti vedevo in terra Ah perché ti sei pagata Ah perché mi sono Un bellissimo blocco di terra Che bello No ero in legno Praticamente c'era un buco In quella struttura Io ho completato la struttura E non ti sei ricordato Che era strano Un pezzo di terra lì Visto che mi vedevi pure pagata No non si vedeva Ok Lasciamo perdere Allora Io mi voglio Aspetta Steph Esco un attimo E rientro perché Ok Scusami Non vorrei essere per sempre No sono sempre un blocco di terra Vabbè Per sempre questa cosa Dove mi voglio nascondere Consolini Dove mi voglio nascondere Nel Glass Madness Teoricamente Dovrebbe essere qualcosa di vettero Che ti fa impazzire Eh tecnicamente A me piace fare impazzire Fere È un bel posto Allora Devo essere la differenza In questo caso Ok Vediamo un po' Sei diventato tutto un blocco Ti ho trasmesso il bug Steph Oh no Mamma mia Mamma mia Mi lasciamo perdere Vai vai Sei tu quel blocco di terra Questo qua Non mi dovresti vedere Hai pagato la mappa Che è successo Che è successo Allora perché ogni cosa Che noi giochiamo Si rompe Steph Perché abbiamo l'abilità di rompere No Sei tu No no Sei tu Secondo me Tu mi hai trasmesso Il tuo influsso Tu sei diventata un blocco di terra Io non ero un blocco di terra Mi hai trasmesso tu Il tuo blocco di terra Te ne sei sbarazzata Dandola a me Quindi hai buggato Tua la mappa Tue le colpe Niente responsabilità per Steph Ora ci tocca resettare tutto Ho cambiato rispetto a prima Per vendicarmi Perché Ferre ha buggato la mappa Ok Adesso è di nuovo Tutto in regola Ferre quanto ti spaventa Questa mappa O ti senti tranquilla No è impossibile Ma si può uscire Da qui sopra Non credo No Quindi rimane Allora È abbastanza delimitata Come zona Sì però Il fatto che il vetro È trasparente Eh sì certo No non la memorizzerò mai Questa è cattivissima Io ho cercato anche di fare Una cosa ancora più cattiva Quindi Se proprio vogliamo Giocarcela così No non ce la faccio Troppe cose trasparenti Che ti mettono Una confusione assurda Ok Ci provo Vai 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 Che devo fare Sono curiosissimo Ok Stai zitto Che mi dici ok È un bel momento Ferre Allora Sì Dimmi di che colore sei Se sei un vetro colorato O un vetro trasparente Dai un indizio È impossibile Sono quello trasparente Perché il gioco ti obbliga Ad essere quello Perlomeno io non ho visto I vetri colorati Di tutti i colori Quindi Sono quello trasparente Ok Ce ne sono di più infatti Rispetto a quelli colorati Però comunque è pur sempre un indizio Non lo so È troppo difficile Allora Concentrazione Devo trovare qualcosa Che non abbia senso Ok Perché comunque Più o meno queste mappe Seguono un po' delle forme Perlomeno questa Quindi Io dico che sei questo Cavolo Cos'eri? Allora Eri lì vicino Quando tu partivi Che poi Tu le dici Dopo un po' Sei vinto Ci rimani pure malissimo Scusa È cattivo Dicevo È presente che quando tu partivi Partivi Che eri leggermente sotto Dovevi saltare Ok Erano due blocchi In cui partivi sotto No in realtà non me lo ricordo Stef Allora Tu parti che sei così Ok Un po' affossato E devi fare un saltello Ok Io ho lasciato Quello dove dovevi Da dove dovevi fare il saltello E ero in quello a fianco Perché erano due di affossato Quindi Io ero a fianco al tuo spawn Cosa? Eh Fai bene a dire cosa Allora Non è molto grande Perché poi giri sempre in tondo Le foglie comunque Non è che ti permettono Di fare chissà quanti giri Però è strana È strana Eh sì Eh sì Stai memorizzando Stef No è impossibile È totalmente impossibile Ti vedo gironzolare Allora Questo è così Che ansia Quello è così Qui Non ce la farò Buona fortuna Stef Vai Non ce la farò mai Non ce la farò mai Ok Ok Hai notato qualcosa di strano Perché hai fatto un ok diverso Dal primo ok Quindi magari Quindi magari Era una tua analizza diversa Perché hai notato qualcosa No? No? Che bellino Stef Che gironzola Perché vedo la tua scritta Quindi anche se non Capito Non ti vedo di persona Vedo comunque la tua scritta Che gira Gira Si perde Si perde Ma io Ma tu Non ricordo un certo blocco Questo blocco qua di legno Ok Non me lo ricordo proprio Ok Però non sono sicuro Quindi Eh non lo so Stef Non lo so Se sei stato bravo a memorizzare Magari ti ricordi bene Quindi devi distruggere quel blocco Vediamo allora Non lo so No Ero praticamente Non so se ne so Tra due alberi C'era uno spazietto Ok All'inizio ci sei anche passato E hai guardato bene Quella zona Dico all'inizio Quando cercavi di memorizzare la mappa Mi sono Io ero lì come un blocchetto Un blocchetto di fronto Mi sono focalizzato molto sulle foglie Pensavo che essesti stata una foglia Non si può essere una foglia Davvero Potrei essere un tronco Sì non c'è tra le opzioni Questo te lo dovresti ricordare Porca miseria Perché ti permette anche di essere più furbo Quando cerchi Mi sono messo qui i consolini Guardate bene Spero che avviate capito E direi che si può andare Cosa mi devo Ok Tutto bene Fere Allora zitto sto memorizzando il più possibile Allora la mappa non è troppo grande Non è troppo complicata Però ci sono tanti blocchi messi in modi molto strani Già Povera Fere Povera Fere Secondo te dove sono? Allora questo aveva questa forma Ok Questo pure Ok Se le sta ricordando Anche questo Quindi sei per forza Un blocco qui in mezzo Ah va bene Ma è l'ottima teoria E quale sono Fere? Perché i buchi I buchi per terra erano tre Erano tre Guarda te lo dico io Sì erano tre Tu non puoi sostituire un blocco vero? No Fere Ok perché ho detto Magari hai sostituito un blocco Puoi stare tranquilla Fere Altra cosa però no Ok Allora io sono quasi sicura Che queste forme fossero giuste Anche perché non mi sembra Che poi ci fossero buchi qui sotto Quindi non puoi essere neanche sotto l'acqua Non annuire che mi dai fastidio Capito? Non ti sto guardando Ma sento la tua presenza Quindi mi dai fastidio Forza Hai pensato che sono in un certo recinto Cerca di nominare Quali di quei blocchi sono No? Io mi ricordo Che però ci fa C'era un blocco sopra Non uno sotto Hai rotto qualcosa? No Fere non si può Io dico questo No ero dietro di te Ero in quel recinto? Sì sì Avevo ragione però Che ero in quel recinto Brava Complimenti Gli altri li memorizzati Vabbè lì però era più difficile Tieni tira la gran caramella Ricordarsi la posizione esatta Però c'ero Devi avere paura perché Ho avuto la paura Ormai la mia mente Sta andando oltre I tuoi nasconditi Allora scegli il prossimo posto dove andare Beh ragazzi Sentici un like E se la prima volta che avete visto il nostro video Potete considerarli Non iscrivervi però Per vedere gli altri episodi Ciao e alla prossima 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 Ciao e alla prossima